Togati 2013, ospite d'onore l'Ungheria, 20-21-22 settembre, una città completamente trasformata sulla tradizione culturale ludica, giochi che arrivano a tutta Italia, che arrivano da tutta Europa e in particolare ci sarà questa dedica al paese ospite, appunto la tradizione ludica maggiara con un omaggio particolare ai ragazzi della Via Pal, che è il libro, uno dei capolavori della letteratura per infanzia per antonomasia, una città intera che si trasforma a 220.000 metri quadrati, che verranno resi pedonabili e totalmente a disposizione del pubblico. Grazie a tutti!